Salve a tutti ragazzi del vostro Gustrugus88, come state? Spero tutto quanto bene, come va la quarantena? Tutto bene? Parliamo un po' della partita, scusate ma io ho bisogno di un po' d'aria perché sono recluso in casa come voi da troppo tempo, quindi un po' d'aria probabilmente non mi vedrete più ma tanto non sono una bella fica, resistete al tentativo di incularmi allora guardate, 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 cazzo non guardate Allora, c'è anche la luna, guardate che bella, la luna, 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 la l Facciamoci seri, facciamoci seri. Una Lazio, come dicono quelli bravi, testaccina, una Lazio Corsera, una Lazio rattoppata ma vogliosa, riesce nell'intento di non perdere questa sera contro il Bruges che comunque vuoi o non vuoi è prima in passifica insieme a noi. Allora, una partita che ha dimostrato che stiamo ritrovando il cuore della scorsa stagione, il che mi fa ben sperare per il proseguio del campionato, ma che allo stesso tempo dimostra come determinate situazioni proprio Inzaghi non le ho capiste, cazzo di sì. Allora, io veramente non capisco, e ripeto, questa cosa mi fa veramente incazzare, non c'entra Inzaghi, c'entra la società, c'entra la gente che ragiona col culo, non capisco come si faccia a vendere Bastos per 800.000 euro e tenere Patrick titolare. Io ho una cosa che mi fa veramente incazzare, è una cosa che non mi fa dormire la notte, non mi fa dormire, non mi fa... Patrick Gabaron, titolare della Lazio, e Bastos, imprese, venduto per 800.000 euro a una squadra di arabi. Se per voi è una cosa normale questa, secondo me è scandaloso, comunque continua Patrick a fare danni da inizio stagione, crea rigori, è veramente un castigo, un castigo. Io non capisco come cazzo si faccia nel 2020 a giocare con Patrick titolare, però vabbè, questa è una mia idea, è un mio punto di vista. Vediamo cosa ne pensate voi, lasciatemelo nei commenti cosa ne pensate di Patrick, perché mi sono veramente rotto il cazzo. Una squadra scandalosa, veramente, cioè una squadra scandalosa quella che ha Patrick titolare, secondo me. Dobbiamo cercare di volerci più bene e di mandare a fare in culo Patrick, ecco, con tutto il rispetto. Correa ci delizia finalmente con un gol, dopo che praticamente è da inizio del campionato che decide di ammaccare i portieri, gli tira addosso, gli fa male, gli sfondi, gli tira di punta, capito? Quindi è Caiseto scandaloso, però vabbè, lasciamo perdere, insomma, voglio dire, Caseidone lo sappiamo. Noi abbiamo un problema, ragazzi, è un problema che sta riscontrando anche Morici, quando io vi dicevo che non valeva minimamente 20 milioni, dicevo ragione, perché sono un genio e poi non ho capito un cazzo. Allora, Morici, 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 o come cazzo si chiama, è un attaccante grosso, potente, che ci mette al cuore, ok? Ma che non tira in porta neanche lui. Noi abbiamo Correa che quando tira in porta non segna, tranne stasera, ma ragazzi è culo. Ci abbiamo Caiseto che non sa tirare in porta, l'ha dimostrato in più di un'occasione. Ci abbiamo Morici che non è che non sa tirare in porta, non tira proprio in porta. Mi spiegate chi cazzo segna della Lazio, a parte Ciruzzo, quando segni Spruzzo? Ragazzi, ma porca miseria, a me queste cose mi fanno veramente incavolare. Morici sta a centrocampo a fare sponde, per carità è utile, serve, ma porca miseria, 20 milioni uno che fa i sponde, uno spondarolo, uno spondarolo, uno spondarolo, uno spondarolo, uno spondarolo, uno spondarolo. Grande Reina, Grande Reina, bella partita di Sergei Mininkovic-Savic che comunque mi fa incazzare per altri motivi, perché quando vuole gioca benissimo, quando non vuole gioca di merda, dovresti essere un po' più continuo, mi ricco Riccio, ok? Un po' più continuo, sgancia quella roulotte e gioca bene, porca puttana. Bene fare, è comunque un giocatore che a me piace, devo dire. E nel complesso Grande Lazio stasera con tutte quante quelle defezioni, questo problema coronavirus, non coronavirus, non ci si capisce una mazza, però ecco, a me queste cose fanno arrabbiare veramente, a me fa arrabbiare, fa arrabbiare veramente tanto Patrick titolare e fa arrabbiare un comparto offensivo che non ti importa. Un abbraccio a tutti quanti dal vostro GustoGus88.